Salve ragazze, questa volta un nuovo video e vi voglio parlare dei miei tre prodotti preferiti del periodo per quanto riguarda la skin care. Allora, inizio subito con un prodotto un pochino complesso, questo è un booster di Madara, esistono diversi tipi di booster e questo è quello liftante. E' carinissimo perché presenta proprio le filialette classiche che vanno appunto rotte come se fossero dei sieri da siringa, vi faccio vedere, ecco qui, e dentro c'è questa sorta di siero barra cremina che va applicato nelle zone dove serve. Io questo lo vado ad utilizzare a cicli alterni, insieme appunto ad altri prodotti che fanno parte della mia skin care quotidiana, come prodotto extra invece che in sostituzione. Quindi vado comunque ad utilizzare il mio siero e vado comunque a utilizzare la mia crema, però questo appunto lì dove mi serve vado ad applicarlo e devo dire che la differenza si vede. Ci sono diverse filette, io cerco di concentrare l'utilizzo tutto nello stesso periodo e con una filetta spesso faccio anche più applicazioni. Una volta che ho finito lascio ferma la pelle, insomma continuo solo con il siero e con la crema e poi dopo un pochino riprendo. Le scelgo in base alla necessità della pelle, quindi in questo caso stavo utilizzando la liftante. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso e ripreso, è questa qui, la crema di, scusate, la maschera di Natura Equa. Questo è una maschera in tessuto e la cosa interessante è che non ha la cremina sopra ma un gel, infatti è al triplo peso molecolare di acido ialuronico e l'effetto si vede perché va a lavorare sia più in profondità che un pochino più esternamente, proprio per cercare di ridare il compattezza al viso sotto diversi tipi di strade, insomma. E inoltre anche l'olio di melograno, che devo dire la mia pelle, soprattutto la parte un pochino più fragile, ama molto, quindi prodotto fantastico. Questo costa un'inezia sui 4,90€, quindi assolutamente da provare. E un prodotto che invece costa un pochino di più sui 30€ ma ce n'è tantissimo e soprattutto ne basta poco. E potete tranquillamente utilizzarlo mattina e sera, è il contornocchi di eterea ed è vegan. È questo qui. Quella è appunto la consistenza. Io con praticamente la punta del polpastrello ovviamente pulito la vado a prelevare e ci faccio con quello che prelevo tutti e due gli occhi. Esce in questa confezione. E devo dire è favoloso, è un prodotto che ha dentro tantissimi attivi linci, è lunghissimo. Poi come al solito lo trovate su www.effettobio.com Sono tre mesi di Pao ma oggettivamente non credo di poterlo smaltire in tre mesi, anche perché forse ci sono quasi. E è un prodotto che vi fa la differenza. È idratante, è anti-age, è liftante, è drenante, è riposante dentro la camomilla, l'acido ialuronico, l'olio di argan, la rosa moscheta, il burro di karité. È veramente un concentrato di ingredienti interessantissime che io non posso che consigliare sia alle persone un pochino più grandi ma anche alle ragazze un po' più giovani che però hanno il contorno occhi molto 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 secco. Tra l'altro vi lancio anche un input, loro consigliano anche l'utilizzo del siero occhi e labbra alla bava di lumaca. Già solo con questo ho visto una differenza strabiliante. Se vi interessa vi parlerò anche di quel prodotto, vi dirò anche le mie impressioni e come al solito ci aggiorniamo al prossimo video. Voi iscrivetevi al canale e lasciate un cuoricino per supportarmi. Vi ricordo anche che c'è un giveaway aperto sul profilo di Effetto Bio su Instagram che trovate qui sotto. Ciao ragazze!